è arrivato un messaggio dalla dirigenza che si lamentava delle poche l'azienda intanto è stata venduta 53 milioni mi ha mandato un messaggio dalla dirigenza che si lamentava dei pochi innesti di squadra noi andiamo a vedere sul vivaio non c'è nessuno come sempre bisogna trovare due difensori centrali una punta e un centrocampista centrale perché marino non le può fare tutte detto questo andiamo a vedere il nube mercato allora un difensore centrale popov vorrebbe giocare tutte le partite bravo non lo so quanto costa bravo abbastanza poco un prestito non c'è un danno 16 anni ragazzi il come si dice il reagan di sergio ramos butto via siamo 56 milioni 56 milioni allora terzini no centrocampisti ti do rosi ti do rosi più 6 no vogliono 9 milioni e 2 scambio giocatori ti do pier rossi più 8 piede 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 rossi 9 non vuoi niente come è possibile che non vuoi niente come è possibile ti do lazzarini più 6 perfetto lazzarini l'hanno voluto raul bravo nome da campione o forse si chiamava ramiro bravo ramiro raul chi è raul bravo è un altro allora giocatore sporatico turn over va bene c'è 16 anni 5 anni va bene stipendio senza bonus li vuoi così 1.300 va bene va bene un difensore centrale abbiamo pagato due soldi 16 anni 74 un affarone un affarone dal monza lazzarini più 6 milioni perfetto quanto ci hanno dato? c come cazzo è possibile? c com'è possibile? c difensore preso ce lo dai Magnusson vorrebbe giocare titolare Zubeldia pure ce lo dai Romero? no ha svincolato Romero non si può più ma chi difensore va bene dai al massimo c'è Marino che può giocare in difesa pure le mina le mina in prestito non ce lo dai le mina in prestito non ce lo dai oristanio sempre in prestito ce lo danno ma tanto può fare cc termini base prestito breve 25 noi 75 60 40 no diciamo 40 60 50 e 50 va bene va bene speriamo che avviene sicuramente troverai più posto qui da noi che all'Inter caro Ristanio ci ha trovato proprio un difensore un cazzo cazzo proprio cazzo proprio io credo che 76 come vai c'è che c'è questo ma non per cazzo che può giocare un cazzo proprio gnocco gnocco in prestito non ce lo dà Wilfred andiamo Wilfred gnocco 20 milioni 33 come ci siete arrivati a sta cifra ce ne do 25 29 mi sa che salta è troppo ce ne do 26 perfetto 26 milioni per il Wilfred può fare anche l'esterno sinistro cruciale questo per forza può giocare cruciale va bene 5 anni va bene senza la torna recessoria stipendio ti do 40 mila Wilfred c'è 21 anni abbiamo preso anche Wilfred una bella campagna a questi ora bisognerebbe trovare il centrocampista centrale che giochi che giochi però in panchina centrocampista centrale che giochi in panchina io andrei in serie B serie B a cercarlo oppure aspettiamo che esce dalla primavera cazzo prima o poi dovrà esci un centrocampista centrale buono come al solito io non riesco a capire perché non ci fa vedere niente ci fa vedere nulla nonostante abbiamo giocato a Ambedi Amsic al su Tirolo Amsic non ci fa vedere niente nonostante abbiamo giocato in serie B ci fa vedere nessuno non capisco il perché non ne conosco uno poi gli Airwood voi ricordate gli Airwood metti metti in lista metti in lista per gli Airwood la 73 è buono mentre serie A ci fa vedere qualche centrocampista centrale Abyshire però ci mette troppo a trovarli Andersen 9 milioni uno che dovrebbe giocare in panchina quindi quindi guarda e bondo perché no non ma avete perché se se non mi piace di faccia non lo io però Caligara 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 perché no Cortinovis perché no poi quello che ci piace di più di faccia lo prendo fagioli fagioli c'avrà barra all'ira di dio goresca al Milan ammazza bello che bello acquisto guimar esce pure al Milan già lo sapevamo questi tutti i giocatori però che non saranno mai in panchina vorranno giocare tutti i titolari covalenco 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 c'è Roma crunic scadenza tra sei mesi maggiore costa troppo ci stanno un bel po' di giocatori muratore all'Atalanta ma ma siamo sia la 21 anni 86 che bestia mamma mia pedri 157 milioni vale rovella 126 c'ha la sua recissoria ma è un bug dai come cazzo è possibile Segovia chi cazzo è Segovia Tomasson non lo conosco però Vesino ci avrà troppo poco ha 35 anni manco giocherà va bene va bene così contro chi giocavamo? Contra la Salernitana il ritorno siamo sempre quarti a 40 punti stesso punteggio con l'Inter tra la Salernitana quanto ci metterà l'osservatore a vedere? Bo non lo so Wilfried benvenuto benvenuto Wilfried benvenuto che numero si è preso Wilfried il 14 il 14 ma come il 14 Willy Wilfried ma il 22 è più carino no? ottima promessa tre presenza tre presenze zero gol e nonto alazio ti è guarda che bestia che è un mostro se ti faccio se ti faccio se ti faccio diventare esterno però quanto ci metti? quattro settimane seconda punta due settimane attaccante attaccante sinistro Wilfried tanto poi fa pure la punta ragazzi ci vediamo al prossimo forse dai